La navigazione all'interno delle stanze di lavoro funziona allo stesso modo della navigazione all'interno dell'hard disk del proprio PC. Selezionare o il file o le cartelle che ci interessa vedere, aprirle, selezionare l'eventuale file, dopodiché è possibile o scaricarlo in locale cliccando sulla riga Download, oppure aprirlo nel proprio browser e visionarlo a schermo. Non è possibile modificare il file. Per modificarlo occorre scaricarlo in locale sul proprio PC, eseguire le modifiche e caricarlo nuovamente nella stanza di lavoro.